La prima fila per il numero 1 Rainbow Vaess, Antonio Velotti, il 2 Rapid Holes, Vincenzo D'Alessandro Junior, il 3 Rania Mack, Lucio Becchetti, il 4 Red Amore, Warner Martellini, il 5 Rani Nalmar, Mario Minopoli Junior, il 6 Roxy Bar, Viaggio Lo Verde, il 7 Rarity, Francesco Pettinari. Da sola in seconda fila con il numero 8 Rapsodia del Nord con Romeo Gallucci. Parte con cautela all'esterno il 7 di Rarity, parte piano anche con il 2 Rapid Holes, mentre al centro dello schieramento cerca di emergere Running Almar al cui interno prova a resistere Red Amore. Ha dovuto desistere invece Rania Mack al cui interno c'è Rainbow Vaess, Red Amore rientra a Running Almar e lo costringe ad accodarsi dopo 300 metri molto molto veloci. Infatti sullo slancio Red Amore completa il quarto iniziale in 28 e 7, Running Almar nella sua scia, che ora accenna a spostare ma poi rimane in corda davanti a Rainbow Vaess e muove a largo Roxy Bar. Quindi Rania Mack che ne prende la scia, ancora Rapsodia del Nord, Rapid Holes in coda, Rarity. Roxy Bar gradatamente avvicina Red Amore, mentre Rania Mack cerca di andare a coprire Running Almar, quindi Rainbow Vaess. C'è stata decelerazione, ma comunque il mezzo miglio iniziale è in 59 e 9 per il battistrada Red Amore con al salchi Roxy Bar che lo impegna in progressione. Rania Mack, l'errore di Roxy Bar e allora Rania Mack prova a coprire Running Almar per andare a diretto contatto di Red Amore. Red Amore che allunga nei confronti Rania Mack che è riuscito a coprire Running Almar, ha spostato la corda Rainbow Vaess, in terza ruota la progressione di Rarity, poi ancora Rapsodia del Nord. Siamo ormai all'attacco della curva finale con Rania Mack che intensifica la pressione sul Red Amore. Running Almar che ora ha la sinistra libera, deve scegliere cosa fare. Siamo all'ingresso e retta d'arrivo con Red Amore alla corda. Da Rania Mack che sbaglia improvvisamente, sinistra libera per Running Almar che può sprintare sul battistrada, poi Rarity. Running Almar che non è bello di camminata e allora Red Amore che li sfugge, prova a riprendersi Running Almar negli ultimi metri. Va all'attacco di Red Amore ma il palo è vicino, Red Amore si salva da Running Almar con Rarity al terzo posto, Rainbow Vaess al quarto. Un'incertezza al momento di cambiare marcia per il favorito Running Almar e questo gli ha impedito di essere aggressivo. come avrebbe potuto nei confronti del leader Red Amore. Rivediamo il momento in cui Running Almar sposta dalla scia di Red Amore. Avete visto però che l'allievo di Mario Minopoli ha una piccola incertezza, poi viene ripreso molto energicamente dal suo driver. Nel finale si impegna più linearmente e attacca l'avversario. Ma sul traguardo c'è una testa di vantaggio per Red Amore numero 4, Warner Martellini da un capo all'altro. Su Running Almar numero 5 con Rarity numero 7 al terzo posto e dunque 457 l'arrivo ufficioso della prima di Capannelle.